Io sono morto qualche anno fa. Attraverso Andrea G. a cura di VB io sono Angelo. Per le ragazze qui presenti sono un collega e nonno ex di Andrea e Massimo era il mio capo. Io sono morto qualche anno fa per un incidente stradale e come dice la vostra guida ho preso il bivio sbagliato. Loro mi avevano avvertito di incidenti gravi ma io ho sempre pensato di essere indistruttibile. Ero forte. Andrea lo può confermare. Però se ci si mette il destino o il karma come lo chiamate voi non c'è forza che tenga. Beh io ho lasciato una moglie e una figlia di sei mesi. Capite bene quanto soffro e ho sofferto. Solo perché una sera ho azzardato un sorpasso su una stradina troppo stretta per un autobus e una macchina insieme. E io l'ho preso in pieno. Inutile dire dell'agonia che ne è conseguita. Non sono morto sul colpo ero forte ricordate. Ho resistito quasi un mese. Altre persone sarebbero morte sul colpo senza speranza. Invece il mio karma prevedeva che anche mia moglie registrasse tale radicale cambiamento nella sua vita. Mia figlia forse no. Il karma era per lei ma soprattutto per me. Andrea lo sa bene. Nella sua vita precedente ha compiuto una scelta molto simile. Un bivio sbagliato ed eccoci qua a parlarne seduti. Io di qua e voi di là. A saperlo prima potevamo essere tutti di là da voi. Invece la natura umana gioca brutti scherzi come la sicurezza che il fumo faccia male agli altri e non a noi perché si è giovani e quindi c'è tutto il tempo per depurare i polmoni in futuro. Beh anch'io fumavo e non sai quanto mi sono pentito anche se non mi comportava grandi disturbi ma è come rifiutare un dono. È come rinunciare alla tappezzeria di pelle gratis in una macchina. È come dire puoi avere una Ferrari e tu dici di no. No è meglio una 500. Ero un patito di auto. Domanda dai Angelo su. Angelo. Sì adesso sto molto meglio capo. Sto sempre vicino a tuo figlio. Gli do consigli sul lavoro. Gli risolvo vari problemi. Domanda è questa la tua missione? Angelo. Sì adesso è cambiata radicalmente. Adesso mi dà emozioni mai provate prima. Sono cambiate parecchie cose. Sto vicino a mia moglie ma è diverso. Lei non mi sente come Andrea. Quanto sarei felice se lei sapesse che sto bene e che sto sempre appena posso vicino a Giulia. Lei mi vede anche però non focalizza chi sono veramente. Avverte solo la mia presenza ma è già tanto. Mi riempie di gioia. È la mia gioia. Mi manca il poterla abbracciare. Anche mia moglie si intende. Qui i piaceri vanno visti in maniera particolarmente diversa perché non sono più di carattere fisico ma vanno ricercati nel sapersi completare nel saper svolgere il compito che ti sei prefissato. E diciamo che ho dei buoni maestri in questo. Sono stato molto molto fortunato e anche voi lo siete. Non sapete quanto si danno da fare per farvi contenti e soddisfarvi. È lodevole tutto ciò e questo mi dà una carica ancora più grande per portare a compimento i miei doveri. Mi farebbe molto piacere tornare a trovarvi, darvi qualche mia impressione su questa nuova dimensione. Non sapete quanto mi è e ci è utile tale legame con voi. Ci fa sentire ancora umani, ancora legati, ancora parte di questo splendido mondo, anche se di cose brutte se ne vedono tutti i giorni, ma per l'amore che ci lega ad alcune persone vale la pena di vivere mille di queste esperienze. Ricordatelo sempre, l'amore, l'amore è tutto. Senza di esso finirebbe domani il genere umano. Pensateci, stasera ne avete di cose cui pensare. Commento. Anche molto tempo dopo il trapasso, le creature come angelo continuano ad alitare nel piano fisico. Questo stato di coscienza è chiamato anche astrale. Poi, a seconda della sua evoluzione, il trapassato si distacca sempre di più dallo stato di coscienza che lo avvince al piano fisico.